Ciao a tutti, bentrovati in una nuova chiacchiere tra prof, ciao Adele. Ciao Marilena e ciao a tutti i nostri amici. Vedete abbiamo anche una maglietta diversa. Oggi non abbiamo la maglietta di chiacchiere tra prof ma abbiamo la maglietta Magic. Chissà perché. Sapete che io e Marilena testiamo costantemente nuovi applicativi e siamo diventati ambassador di Magic School già da un po', quindi abbiamo avuto modo anche di seguire, di mostrarlo nelle nostre formazioni, di seguire tutte le implementazioni che sono state fatte fino all'ultima ultimissima che vi faremo vedere perché è proprio stata lanciata qualche giorno fa e mostrata in anteprima ovviamente a chi è all'interno del programma degli ambassador per quanto riguarda Magic School. Martiamo qui domani. Sì, poi abbiamo avuto il tempo di testarla un po' con i nostri alunni e abbiamo visto che è veramente Magic, quindi ringraziamo Magic School anche per questa bellissima maglietta dove c'è scritto teacher a Magic, è bellissimo insomma, noi effettivamente essere riconosciuti come magici è veramente carino, carino. Bene, allora iniziamo subito Adele perché abbiamo tante tante cose da farvi vedere perché come ha detto Adele Magic School l'abbiamo fatto vedere in alcune chiacchiere in app Smashing e con altri applicativi, lo presentiamo nelle nostre formazioni, ne parliamo sempre e lo utilizziamo, ma oggi vogliamo proprio farvi una panoramica generale su tutte le novità che ci sono e su alcuni funzionamenti, alcune app all'interno che utilizziamo molto, vero Adele? Sì esatto, perché chi ha visto anche le nostre puntate di oltre la Isce di più dove appunto l'avevamo mostrato insieme ad altri applicativi ricorderà che era anche molto più scarno rispetto ad oggi. Quello che noi diciamo sempre nelle formazioni è che effettivamente Magic School implementa settimanalmente con qualcosa di nuovo il suo enorme database. Attualmente Magic School ha una versione free, c'è la possibilità per un determinato periodo dei giorni di utilizzare quelle che sono tutte le sue potenzialità e poi c'è anche una scaduto questi giorni, c'è una opzione a pagamento che permette soprattutto l'utilizzo del bot Raina e soprattutto di esportare quelle che sono tutte le nostre attività create con Magic School nel mondo Microsoft e nel mondo Google che appunto resteranno solo nella versione a pagamento. Ma andiamo un po' per gradi perché quello che offre comunque Magic School è tantissimo, quindi non vi lasciate spaventare anche dal fatto che dopo un po' di tempo si perde questa possibilità di esportazione perché potete copiare il testo e incollarlo su qualsiasi vostro applicativo che sia appunto Microsoft o Google. Allora ci sono tantissimi strumenti messi a disposizione. Partiamo subito dalla possibilità di creare un chatbot che però si può utilizzare solo all'interno di Magic School, quindi rispetto a quello che avete visto con Mizu è totalmente diverso perché Mizu noi lo possiamo andare a condividere con gli studenti, ecco nel caso di Magic School lavora solo all'interno di quest'ambiente. C'è la possibilità di creare quiz, di creare appunto delle card. Immaginate sempre che tutto questo nasce nel mondo americano, quindi ci sono anche delle opzioni che hanno una forte presa sul mondo americano. C'è la possibilità di lezioni, di riscrivere testo, le domande sotto i video YouTube, testo informativo, le rubriche, mettiamoci una bella stellina che ce la fa salire in alto tra i preferiti così non ce lo perdiamo. Questa è anche una bellissima cosa che hanno fatto. La stellina è subito disponibile vicino all'applicativo perché sono talmente tanti che se non crei un tuo box di risorse alla fine ti perdi, no? Sono veramente veramente tante. Esatto, c'è la possibilità di scrivere i feedback agli studenti, email, sommari di testi, un generatore di canzoni, creare appunto quelle che sono dei problemi di matematica dal punto di vista proprio testuale, banale traduttore, altre domande secondo il metodo doc, dei jokes, cioè delle battute divertenti, le unità didattiche un pianificatore, il geopardy che è invece dalla parte della gamification, la choice board dell'UDL che uso tantissimo, i vocabolari, insomma vedete project based learning. Tante, 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 tante. I generatori di storie sociali veramente carinissimo perché insomma creiamo delle storie che possano creare immedesimazioni all'interno della classe, delle attività. La cosa interessante che poi vedremo tra poco è che tutto quello che stai facendo vedere è di grande supporto a noi docenti ma nella nuova versione lanciata in questi giorni sarà di supporto anche agli studenti. Infatti abbiamo definito questo strumento eh dai superpoteri per docenti e studenti veramente completo. Esatto. Io sono arrivata intanto sul fondo mentre si parlava mostrando così gli altri hanno potuto vedere i titoli di quello che si può fare con Magic School. Ecco queste sono quelle che io ho asteriscato, ho messo la mia bella stellina per ehm mostrare. Quelle che utilizziamo di più dai. Esatto. Quelle che utilizzo di più. Partiamo subito da un lesson plan. Allora nel lesson plan io decido di creare un'attività eh specifica e vado a individuare l'anno. Ricordate nove dodici superiore almeno nel mio caso. Io qui metto arte fiamminga e eh influssi sull'arte italiana del rinascimento. Io qui posso andare a inserire degli ulteriori criteri eh che posso allegare come pdf oppure posso scrivere come il testo. Eh quindi vado a scrivere ehm testo in italiano. Vediamo se me lo prende altrimenti si traduce molto facilmente. Eh con focus sull'arte italiana. Vado a cliccare su generate e in un lampo mi ha creato quella che è la. Inizia prima l'attività in inglese ma poi te lo traduce in italiano. Esatto. Questa è l'attività. In questo caso mi è rimasta in inglese ma non mi preoccupate. Eh azioni traduzione e qui andate a scegliere la lingua di riferimento. Quindi io vado a selezionare italiano. Clicco e il l'intelligenza artificiale me lo traduce nel secondo nel secondo messaggio totalmente in italiano. Eh nel momento in cui eh questa attività è di vostro interesse come vedete ci sono le i bottoni accanto. L'export in Docs Word o la possibilità di stampare. Perderete Docs e Word dopo la versione insomma full ma il bottone di copia per poterlo poi riportare è sempre attivo. Rimane. La bellezza di Magic School è che il testo lo ce lo legge l'intelligenza artificiale e io il comando glielo posso dare anche vocalmente. quindi dal punto di vista dell'inclusività devo dire che è sempre fantastico. Nel bottone delle azioni io posso anche andare a ragionare in termini di lunghezza di sommario o andare a customizzare quello che è il testo stesso. Quindi questa è la lezione generata. Andiamo invece a lavorare su un discorso di choice board. Perché vi dico delle choice board? Perché spesso a noi ci manca l'idea anche dell'immaginare i prodotti che possono andare a realizzare i ragazzi. Quindi io mantengo magari lo stesso tema. Arte eh fiamminga e arte rinascimentale italiana. E eh li vado a ehm indicare che cosa magari devono creare eh prodotti multimediali. In realtà questo è aggiuntivo. Noi possiamo anche non dare indicazioni a riguardo. Però ci produce una serie di attività eh che. Un chiave UDL. Un chiave UDL proprio perché qui mi dice che si può creare una linea del tempo. Qui si può creare un qualcosa di eh relativo proprio alla critica d'arte. Un museo virtuale. Una comparazione artistica. Un cruciverba di parole. Una riflessione. Un collage. Un quiz. E una qualcosa di scrittura creativa. Quindi come vedete ci ha dato più opzioni. Alcune delle quali magari noi ci pensiamo e altre a cui non facciamo magari molto caso. E eh l'intelligenza artificiale ci dà proprio quell'idea per portare poi avanti l'attività stessa. E questo come supporto proprio alle nostre idee. Esatto. E questo è in chiave UDL perché ci dà diversi eh diversi tipi di eh espressione. Eh nel Geopardi invece anche qui io vado a scrivere lo stesso tema. E eh ci dovrebbe dare quelle che sono le domande ehm come se fosse un quiz. Quindi come se fossi eh televisivi vedete. E in questo caso. Difficoltà differenti no? Esatto. Esatto. Con difficoltà differenti vedete eh si parte da cento a cinquecento e ci sono tutta una serie di domande. Come il milionario. Esatto. Esattamente come il milionario. Quindi qui poi noi possiamo andare ad aggiungere altre domande. Possiamo andare a lavorarci ma nulla vieta che queste siano anche domande di riflessione quando vengono fatte le interrogazioni. Quindi ehm una gamification. Una gamification insomma molto ampia. E poi è interessante anche il multi-step assignment perché ehm noi possiamo andare qui a dare indicazioni proprio su un compito fatto su più step. E ehm l'intelligenza artificiale ci genera appunto ehm quella che è. Vari livelli. Esatto. Esatto. Eh qui topic arte fiamminga e quindi i vari livelli di eh di apprendimento vengono già scansionati quindi noi facciamo questa attività step by step. Esatto. Ovviamente io qui non sono molto precisa perché mi interessa darvi un po' un'idea no? Di quello che succede. Ecco ehm vengono indicati sempre gli standard ma questi sono standard americani. Non sono precaricati standard europei. Quello che Magic School ha caricato sono standard statunitensi e canadesi. Però anche qui vi ha creato un'attività che prevede appunto una parte rompichiavo. Una parte di vocabolario, un'esplorazione dell'arte fiamminga, dell'arte italiana, delle domande di riferimento e un prompt che riguarda sempre un un prodotto comunque da da realizzare o un qualcosa che riflette su un determinato argomento. Poi eh a chiudere un po' quando noi abbiamo bisogno andare a valutare io vado qui a scrivere prodotto multimediale. Il titolo metto sempre arte fiamminga e rinascimentale italiana. La scala su cinque. Qui noi possiamo andare anche ad inserire quelle che sono delle altre parti descrittive che ovviamente. Descrittori eventualmente no? Descrittori ovviamente no? Prodotto multimediale. Multimediale e poi magari entrando nello specifico si possono inserire altre caratteristiche. Sito, bacheca, infografica, video. Grosso modo è quello che si fa. E gliela faccio generare. E mi dà appunto ehm una scala per quanto riguarda proprio la le competenze del prodotto eh estremamente legata alle nostre competenze. Vedete creatività, la ricerca che è alla base del lavoro, il design e l'organizzazione, i media e gli strumenti utilizzati, la creatività e originalità. Quindi se andiamo a vedere qui c'è uso di vari tipi di multimedia e di strumenti che sono stati totalmente integrati nel prodotto. Quindi sono effettivamente delle attività. Ah devo dire che io le ho usate le rubriche e sono molto molto precise eh veramente sì 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 sì. La gradualità poi nei quattro livelli insomma è veramente precisa. Quindi anche se sono diciamo impostate su un sistema americano e canadese però se gli diamo le giuste indicazioni riescono a calibrarle proprio sulle nostre attività. Esatto esatto. Esatto. E questi sono soltanto alcuni esempi no? Perché veramente ne abbiamo visti tanti e tanti. Quello di generare domande da video oppure generare testo da video o riassunto da video sono un'altra grande risorsa che abbiamo no? Che possiamo insomma utilizzare. Sì sì. Anche qui basta indicare quello che è il link al video e vi genera proprio delle domande relativi al video stesso. Quindi sotto questo aspetto è veramente utilissimo. e veramente utile. Se voi adesso accedete vedete proprio questo bottone di switch qui in alto e Marilena illuminaci un po' da Magic School si passa a Magic Student. Magic Student. Abbiamo detto insomma i poteri che hanno in che ha Magic School non sono solo tanto al servizio di noi docenti ma hanno creato anche un'area dedicata agli studenti. prima Adele vi ha detto che il chatbot che è stato inserito nel pannello dei docenti è solo per docenti. Quindi possiamo utilizzarlo noi all'interno del nostro account come un assistente docente, un assistente alla nostra pianificazione. Mentre da qualche giorno è stato aperto Launch to Students che cliccando ovviamente su questa sezione noi possiamo creare delle aree per i nostri studenti. che vuol dire non la creazione di un semplice chatbot da lanciare ai nostri ragazzi ma la creazione di un'area sempre in movimento dove possiamo far utilizzare ai nostri ragazzi diversi chatbot. Quindi apriamo una room, quindi una stanza dove all'interno i ragazzi attraverso un link, adesso insomma faremo una prova, utilizzeranno i chatbot che noi andiamo a selezionare. Quindi se un giorno vogliamo lavorare in quella room nella creazione di una storia e poi la realizzazione di domande interattive all'interno di quella storia, andremo a mettere nella room i chatbot che utilizzeranno i ragazzi. Un giorno dopo vogliamo utilizzarne altri, li modifichiamo e andiamo ad inserire altri strumenti per i nostri ragazzi. Loro non dovranno fare altro che accedere alla room e utilizzare ciò che noi mettiamo a disposizione. Ed è veramente semplicissimo e non serve registrazione. Andiamo a cliccare sul launch new room. Che cosa ci mette a disposizione? Tutti i tool che prima abbiamo visto con Adele, per cui tutto quello che era della creatività oppure per esempio la creazione di una musica o della creazione delle domande, la creazione appunto di una storia, la creazione di un gioco. Quante volte noi ragazzi diciamo creiamo un gioco su questa tematica, no? Quindi loro possono utilizzare il Geopardy per creare delle domande su un determinato argomento. Quindi andiamo a scegliere quello che è il chatbot che vogliamo far utilizzare ragazzi. Andiamo sulle storie sociali e le aggiungiamo e andiamo poi a creare dei quiz. Quindi usiamo questi due chatbot. Vedete, me li ho messi sul tools to launch. Quindi basta lanciare la room qui dall'alto che all'interno della room, ma dopo che noi l'abbiamo settata, gli abbiamo dato un nome magic, la chiamiamo magic, il grado, come diceva sempre, insomma pure Adele prima, ricordatevi i gradi del vostro ordine e andiamo a lanciare la room magic, questa magica room. Come condividere con gli altri? Ecco, questo è il QR code. Se volete entrare la lascerò aperta, insomma, questa room e provare voi i chatbot oppure tramite link. Io adesso passerò ad Adele il link che proverà ad entrare nella room che abbiamo appena creato, nella magic room e ci confermerà che per entrare nella room ma servirà semplicemente mettere un nome, un nickname o il proprio nome. Eccola qui, Adele è entrata. Adele adesso avrà nella sua visualizzazione, lo vuoi far vedere Adele? Così facciamolo vedere completo nella sua visualizzazione il chatbot che può utilizzare. Allora, ho inserito prima il nome che è apparso nella console di Marilena e vedete che appare anche subito quello che è un pop-up che dice che il docente vedrà quello che comunque noi facciamo, che è bene essere chiari e specifici con l'intelligenza artificiale per avere una migliore risposta, che l'intelligenza artificiale non va a sostituire il nostro pensiero, che sono monitorati i bias in una maniera molto accurata. Che cos'è il bias? Se l'intelligenza artificiale ha al suo interno dei dati che vanno a influire su quelle che sono magari tematiche razziali, per esempio, ecco, loro cercano di tenere monitorato questo aspetto perché sia più equilibrato possibile e poi ovviamente c'è tutta la parte relativa alla protezione della privacy. Si clicca su accetta e quindi io posso... Però questo è un schema che fanno, eh? Questo è importante perché, come dicevamo prima, aiuta i ragazzi ad utilizzare consapevolmente l'intelligenza artificiale. Molto, molto bello. esatto. E sono entrata, vedete, direttamente nello strumento del quiz che posso andare a generare con la stessa modalità che voi avete visto fare nella... nella... nella parte del genere. Quindi il quiz e la storia sociale, quindi loro possono generare la storia dando le varie indicazioni di emozioni, messaggio, eccetera, e poi su quella andare a creare delle domande. Quindi loro hanno un'area di lavoro e qualsiasi cosa loro facciano, noi da docenti possiamo controllare. E quindi, riprendo un attimo lo schermo... Intanto provo a fare io qualcosa. Vedete qui c'è Adele e vedete è attiva e cliccando su action posso mettere in pausa, posso bloccare il lavoro e vedete man mano ecco che Adele lavora, è uscita fuori la scritta, inizia la generazione del quiz. Se ci clicco sopra vedo che lei sta utilizzando il quiz e ha cominciato a interagire con il chatbot. Quindi noi dalla parte nostra controlliamo il lavoro e loro ovviamente lo sanno che noi li controlliamo e useranno un'intelligenza artificiale come un vero strumento di apprendimento. Questa veramente è una grande risorsa. Abbiamo parlato di altri chatbot all'interno delle chiacchiere, no? Mizu ci aveva veramente stupito, School e anche in Magic School troviamo tutto questo. Troviamo tutti i chatbot che abbiamo visto precedentemente più il supporto al docente. Quindi come diceva Adele prima, adesso abbiamo la possibilità di utilizzarlo per i primi tempi gratuitamente, poi ti chiederà ovviamente un abbonamento, ma valutate effettivamente l'utilizzo nella propria attività didattica perché sicuramente è uno strumento da prendere in considerazione. Esatto, esatto. Ecco Adele, Adele sta facendo su Dante Alichieri il quiz. Eccolo qui. Domanda sulla Divina Commedia. Perfetto. Quindi già sta lavorando nella nostra Magic Room. Esatto. Quindi è veramente uno strumento entusiasmante. Noi ci entusiasmiamo, cerchiamo insomma di trasmettere questo entusiasmo proprio perché effettivamente vedere l'attività svolta con i ragazzi così motivante, così performante perché poi acquisiscono tante competenze e allora noi ci entusiasmiamo e proponiamo ai nostri colleghi e anche in questa nostra chiacchiera. Esatto, esatto. Così almeno in questa chiacchiera abbiamo accontentato entrambi, docenti e studenti in un soltanto. E studenti. Benissimo. Bene, allora vi voglio ricordare, e Adele è prontissima già con i nostri link, ricordare di iscriverci se utilizzate le nostre, insomma le idee che proponiamo, così vi possiamo citare nelle nostre chiacchiere. Poi soprattutto ricordatevi di iscrivervi al canale Telegram dove mettiamo in anteprima tutte le nostre attività. E poi il caffè Adele. Il caffè è una sua idea, è proprio un'idea di Adele che ci sta veramente piacendo tanto perché stiamo ricevendo al di là del del caffè stiamo ricevendo tanti veramente complimenti e apprezzamenti che ci danno un po' di carica. Esatto, esatto. Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti. Alla prossima chiacchiera tra prof. Ciao ciao.